La rappresentazione spirituale del bene e del male, due facce della stessa medaglia, insetti in ogni essere vivente. Così l'artista Davide Smeik spiega il significato dell'ultimo murale realizzato a Campobasso. Il diavolo e la donzella, simbolo dei misteri che un paio di settimane fa hanno sfilato tra le vie della città, sono stati raffigurati sulla facciata di una palazzina di Fontana Vecchia. Temptation, Vietén, Vietén, il nome scelto dall'artista che si è voluto discostare dalle canoniche immagini e spot pubblicitari della festa per offrire una prospettiva diversa, come spiega lo stesso autore dell'opera. Ho cercato di rappresentare un po' la situazione del bene e del male, diciamo le due facce della stessa medaglia poi, alla fine, che un po' ognuno di noi ha fondamentalmente. Campobasso, la città dei misteri e il museo a cielo aperto con i suoi meravigliosi murales si arricchisce così di un'altra opera. L'iniziativa rientra nell'ambito di Imbartiamo, il progetto di riqualificazione urbana organizzato dal Comune e da Malatessa Associati, rappresentata da Nino Carpenito e Stefano Vavolo. Imbartiamo è un progetto che in collaborazione con il Comune, l'associazione Malatessa porta avanti dal 2019, questa è la seconda edizione, faremo altri interventi tra l'altro qui in zona Fontana Vecchia, inizio luglio, mentre questo è stato il primo di apertura di quest'anno. Amico mio, è nuovo, è nuovo.